Cari amiche e cari amici, notizia tratta dal giornale.it. Titolo, Vaticano, svolta del Papa nell'annuario, scompare Vicario di Cristo. Detto per noi poi, se scomparisse pure il Papa, non farebbe un soldo di danno. Comunque, l'articolo è a firma di Francesco Boezzi, lunedì 10 agosto 2020. Papa Francesco è un pontefice che guarda più alla sostanza che alla forma, ma per molti cattolici l'adesione allo schema formale è sinonimo di rispetto per la dottrina. L'ultima polemica in ordine di tempo riguarda la mancata presenza del titolo Vicario di Cristo nell'edizione 2020 dell'annuario pontificio. Il pontefice argentino, come ogni successore di Pietro, è Vicario di Cristo, ma in quel documento sembra che alcuni titoli, compreso quello appena citato, vengano considerati alla stregua di connotazioni storicistiche. Quando Bergoglio si è affacciato per la prima volta su Piazza San Pietro, ha ricordato ai fedeli di tutto il mondo di essere Vescovo di Roma e il messaggio è stato chiaro sin da principio. Beh, caro amico giornalista, è stato chiaro fin da principio un tubo, perché a posteriori si può dire questo, ma se no lì si capiva semplicemente che non stava rispettando quello che è il protocollo tradizionale. Seguito, Silvana De Mari sulla verità ha scritto quanto segue Se non è e non vuole essere il Vicario di Cristo, allora sarebbe corretto se trovasse un nuovo lavoro, e invece no. Bergoglio continua a farsi considerare Papa. Il fatto che non sia più Vicario di Cristo permette alla parola Cristo di non comparire più, cioè permette che Cristo sia lasciato fuori dalla scena, sia lasciato fuori dalla storia, una storia che Bergoglio preferisce scriverla da solo. Questo è il secondo modo di interpretare la scelta del Santo Padre. Altri direbbero che Bergoglio, in quanto teologo del popolo, disdegna le formalità. Il titolo di Vicario di Cristo è o non è una pura formalità? Sia come sia, il risultato non cambia. Vicario di Cristo è un'espressione che non è presente sull'annuario pontificio con tutto quello che questa assenza può comportare in termini di polemiche negli e attorno agli ambienti ecclesiastici. Ma non è finita. Sempre i tradizionalisti ritengono che la figura stessa del pontefice stia cambiando col proliferare di quella che i conservatori chiamano confusione imperante. La voce della Chiesa Cattolica, insomma, sarebbe diventata corale e le Chiese nazionali starebbero prendendo il sopravvento. Si pensi al caso della Germania, l'Episcopato nazionale, nonostante le preoccupazioni provenienti da Roma, sta discutendo di modifiche dottrinali che per prassi e tradizioni spetterebbero alla Chiesa universale ed al suo massimo rappresentante. Il ritorno delle Chiese nazionali accompagnerebbe naturalmente la visione di chi, più che vicario di Cristo, penserebbe soprattutto ad essere il Vescovo di Roma. Le solite ambiguità di Bergoglio, le solite ambiguità di Bergoglio, la sua caratteristica è proprio l'ambiguità e purtroppo i fedeli che non seguono molto la dottrina della Chiesa e ne sanno molto poco, non se ne accorgono. Ma è una vera autodistruzione del cattolicesimo quella che sta facendo il compagno Bergoglio. Continuo. Un atteggiamento, quello di Papa Francesco, che starebbe contribuendo alla rinversione delle differenze dottrinali tra un episcopato e l'altro. La Chiesa polacca, giusto per fare un esempio, sarebbe molto diversa dalla Chiesa tedesca o dalla Chiesa argentina. Vescovo di Roma e Vicario di Cristo non sono in contraddizione tra loro, il Papa è l'uno e l'altro, ma Bergoglio, questa è la sintesi della critica dei conservatori, avrebbe posto l'accento soltanto su una delle tue titolazioni, un'opzione che verrebbe confermata dall'ultimo annuario pontificio. Qui finisce l'articolo, ma non è che viene confermata solo dall'ultimo annuario pontificio, viene confermata da tutto il papato di un presunto Papa che usurpa il trono di Pietro e che è ateo, crede nella pace mamma e nella madre terra. Questa è la verità. E quindi che cosa gliene può fregare di Gesù Cristo che ha già detto che è un uomo qualsiasi? E quindi il senso di un uomo qualsiasi vuol dire che non è risorto, se è un uomo qualsiasi. Se non è risolto vuol dire che il sacramento dell'Eucaristia è fasullo, è tutta un'invenzione umana, è una vera devastazione del cattolicesimo, quella che sta facendo il compagno Bergoglio. E mi dispiace che i cattolici non si facciano sentire, che stanno qui a lamentarsi con le ripose nei singoli canali. No, dovete scendere in piazza, dovete scendere in piazza, altrimenti la responsabilità di questa distruzione sarà anche vostra, non è poter scaricare tutto su un ateo adoratore della pace mamma. Un pollice su per il mio lavoro, sempre inchiodati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.